Edifici intelligenti, tecnologie per costruire il futuro. Questo il titolo di un altro workshop torinese organizzato da Action Group in collaborazione con la Fondazione dell'Ordine Architetti di Torino. Il 5 dicembre 2013, presso il Centro Congressi Torino Incontra. Un'occasione di informazione, business e aggiornamento sono stati riconosciuti ai partecipanti sei crediti formativi dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Torino. Siamo la struttura più antica di Reale Mutu Assicurazioni, siamo lì da oltre 50 anni. Mi permetto di dire che siamo forse quelli che più si identificano con i valori criteri di Reale Mutu e quindi la più grande compagnia assicurazioni oggi sul territorio e anche domani probabilmente. In linea generale come Torino Castello ma proprio come Reale Mutu a noi siamo sempre molto attenti a ciò che succede sul territorio. Credo che la vera capacità come giustamente lei ha detto è quella di innovarsi. Per innovarsi vuol dire sostanzialmente dobbiamo stare sul territorio costantemente per capire quali sono i bisogni del mercato, della clientela e che noi definiamo soci in quanto ricordo che essendo una mutua quelli che noi oggi acquisiamo come clienti diventano a tutti gli effetti i nostri soci. Il concetto di oggi nasce dalla volontà di essere vicini non solo al mercato delle aziende ma anche a tutti i professionisti dei quali sicuramente architetti dal punto di vista tecnico fanno parte e proprio per loro abbiamo studiato un insieme di coperture ad hoc che riguardano e l'aspetto proprio della decisione professione e per gli studi nei quali svolgono la loro attività e anche per tutti gli aspetti previdenziali che oggi come oggi consentono ancora delle deducibilità fiscali molto importanti.